Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad esse, nell'ora della nostra morte, ame. Ave Maria, vieni di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne. Ave Maria, vieni di grazia, Signore, con te. Grazie a tutti. Accolta dallo sventolio di fazzoletti e dall'applauso di migliaia di fedeli. Napoli oggi è in festa ed è al popolo che il cardinale rivolge la sua omelia, richiamando la città ai valori di pace, accoglienza e solidarietà. Non c'è pace senza giustizia e quando noi mettiamo in atto tutte quelle potenzialità che abbiamo, ecco, noi possiamo soprattutto dare fiducia e speranza a chi ormai l'ha perso. E mi riferisco in modo particolare ai nostri cari giovani. Parole che condivido, il discorso incentrato sulla pace, che non è solo assenza di guerre, ma è predisposizione alla solidarietà, alla fratellanza e verso gli altri. Poi anche il messaggio per la città che tutti devono contribuire al bene comune Napoli, quindi una comunità che vuole stare insieme nelle diversità. Un messaggio importante che va in linea con l'azione della città.